Nel corso del 2024 questo esercizio noi metteremo altri 90 autobus nuovi all'interno della nostra flotta che cuba complessivamente 790 mezzi e il risultato che abbiamo ottenuto è che porteremo la vetusta media a 8 anni punto 8 quindi un paio di punti in meno di quella che è la media nazionale. Questo è un risultato che ci gratifica ma soprattutto è un segnale chiaro che miglioriamo la qualità del servizio a favore della nostra utenza quindi autobus più nuovi, ecologici che funzionano meglio e questo va a vantaggio degli utilizzatori. Oggi siamo qui anche a inaugurare questa carrozzeria che da diversi anni era ferma, non lavorava perché ha avuto dei danneggiamenti e questa carrozzeria è importante perché per tutto quello che sarà soprattutto il circuito urbano quindi Pescara, Chieti potremmo garantire riparazioni veloci ai autobus danneggiati e quindi presentare anche il parco auto in maniera sempre efficiente perché invece di portarlo all'esterno possiamo fare riparazioni ogni sera, velocemente, ogni giorno all'interno di questa nuova carrozzeria molto moderna che ha tutte le caratteristiche e potrà essere caratterizzata come una delle carrozzerie più efficienti per il settore. Grazie 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 Grazie